Allora ragazzi buongiorno a tutti, allora intanto vi dico che ci vedremo già dopo per il video post sorteggi probabilmente farò la live anche in diretta per dei sorteggi vabbè a parte questo, io non devo fare l'avvocato di nessuno per carità non me ne frega un cazzo però vedere ad esempio come sapete insomma il fatto di Seacwolf e dell'interista che tra l'altro il signor interista ha fatto un video poche ore fa insomma proprio su Seacwolf a me fa sorridere perché Seacwolf non lo sta cagando di striscio, non gli risponde e potrebbe rispondergli come stracazzo vuole dato che il signore l'ha chiamato Merdwolf, insulta, ripeto minaccia di querele per chi apre le pagine contro lui chi lo insulta e quant'altro lui fa molto peggio perché se io metto gli screen di chi è stato insultato che mi hanno postato, di chi è stato insultato da lui, cioè io non so se poi a lui convenga minacciare di queste cose qui però tralasciando questo, io sinceramente rispondo tranquillamente dato che lui ha insinuato che siamo falsi perché mettiamo le miniature false, allora le miniature false non sono messe per fare più visualizzazione almeno per quanto mi riguarda io le metto semplicemente perché non perché attira di più ma perché fa vedere che parlo della partita ok? e poi comunque anche se tu metti una miniatura fasulla ok? come le chiama questo signore quando si parla di highlights viene scritto highlights della partita non viene scritto sfogo, non viene scritto commento della partita e quant'altro perché se tu entri in quel video sai che comunque c'è uno che parla della partita non ci sono gli highlights quindi è inutile che ti attacchi queste cose poi altra cosa che a me ha dato molto fastidio falso su youtube e falso sulla vita lo dice qualcun altro, qualche tuo parente perché qua non c'entra più solo il fatto con sequel, c'entra anche che tieni in mezzo un po' tutti qua perché falso nella vita probabilmente lo sei te dato che dici di essere un personaggio quindi fai il falso su youtube e fai il falso anche nella vita perché non riesci a essere te stesso poi tralasciando che un'altra cosa che mi ha dato fastidio che tu dici ad esempio sequel fa a 50.000 iscritte e tu dici che tu fai le stesse visualizzazioni sue che è una media molto alta e quant'altro boh ok, allora potrei anche portarti l'esempio di Rosario Munez di Giuseppe Simone di questa gente qui che ha una media di 80-90.000 visualizzazioni perché? Perché sono pagliacci e probabilmente tu sei seguito molto perché fai pagliaccio o sei pagliaccio dipende insomma e questo è il fatto che purtroppo tu pensi di fottere la gente ma per quanto mi riguarda è che io ho 26 anni non ho 30 in meno di te, non ho 12 in meno di te però so già come funziona la vita sia nel reale sia nel virtuale e quindi a me non fotti di sicuro e come non fotti sequel, non fotti gli altri infatti ripeto, sequel ti sta proprio cagando e si sta comportando in maniera molto matura rispetto a te che hai 18 anni in più di lui detto questo, ripeto, anche gli insulti a parte Mardwolf, oggi ho visto il video che ha caricato oggi il signore che ha detto che l'ha considerato mongoloide come praticamente mongoloidi quelli che lo seguono lui ha detto questa cosa qui poi ha tirato fuori appunto il fatto che tutti gli youtuber ce l'hanno con lui ma ragazzi, ma stiamo scherzando allora potrei darti ragione sul fatto che sì, perché poi hai detto ce l'hanno con me perché io ho delle qualità allora potrei darti ragione su quando hai fatto, non so, Mardwolf e con sacco però ad esempio quando hai avuto discussioni hai avuto più che discussioni vi siete infamati l'uno con l'altro però vabbè con il RAS ad esempio il RAS aveva 30-40 mili iscritti più di te e non è un caso che fatalità Seacolf adesso che ti ha superato con gli iscritti rompi il cazzo a lui perché ha più iscritti di te non è secondo me un caso perché prima non te lo cagavi prima non te lo cagavi e c'è un motivo poi ripeto puoi dire questa cosa qui che c'è una diatriba ad esempio con lo juventino che abita in Spagna adesso non so precisamente dove però non puoi dire la stessa cosa con Seacolf perché Seacolf non ti sta cagando non ti ha mai cagato e non ti ha mai rotto il cazzo e tu continui praticamente tu sei l'unico youtuber che fa le cose e si risponde da solo cioè si fa i video praticamente contro se stesso perché oggi hai fatto un video di risposta a chi? a chi? Seacolf non ha mai detto un cazzo su di te e non ti ha mai risposto verso chi hai fatto quel video di risposta? verso i suoi iscritti però alla fine non è che attacchi i suoi iscritti e basta attacchi lui direttamente lui che ti ripeto non ha fatto un cazzo ad esempio ha detto che Seacolf parla bene di tutti no perché tempo indietro fece un video dopo Juventus Roma dove fece uno sfogo contro gli juventini allucinante non ha parlato sempre bene degli juventini tra l'altro quindi è inutile dire puttanate perché il falso sei te se non conosci Seacolf io Seacolf lo conosco da un paio di anni ci ho anche collaborato e so che abbiamo avuto anche divergenze discussioni sul fatto su molte cose tra Juventus e Roma quindi non è vero quello che dici te ok solo chi lo conosce può sapere certe cose primo secondo ti brucia il culo che lui fa lo sportivo e te no perché questa è la verità lui ha fatto un video sul fatto di non criticare la Juventus perché perché ha una organizzazione un progetto serio e le altre società non ce l'hanno è falsa questa cosa la tua Inter ha un progetto serio non mi sembra mi sembra che lui abbia detto non perché sono juventino però lui ha detto la verità e se questa cosa te brucia perché lui sa essere sportivo e guardare al di là del tifo verso la Roma e tu no non riesce a guardare al di là del tifo verso l'Inter e quindi devi sparare merda a prescindere sulla Juventus quelli sono cazzi tuoi di sicuro non suoi con questo chiudo ragazzi ci vediamo al video post sorteggi di Champions League che è la cosa più importante soprattutto ultimo pensiero per le vittime e soprattutto per chi sta soffrendo in queste ore per il terremoto avvenuto ieri in centro Italia perché il popolo italiano può essere quello che volete abbiamo moltissimi difetti però sto notando in queste ore e da ieri che veramente il popolo italiano ha un cuore grandissimo che io penso che ci invidiano in tutto il mondo un saluto a tutti e ci vediamo dopo